Alberto di Monaco ha ancora il coronavirus purtroppo, ma sta meglio, sta decisamente meglio, sogna di tornare dalla sua amata famiglia, ho avuto paura avrebbe detto l'uomo. Quando mi hanno comunicato il test positivo al covid-19, ora non ho più la febbre, anche la tosse è migliorata, ma una settimana fa ero spaventato, mi domandavo come poteva averlo preso il virus, queste le parole che avrebbe detto al Corriere della Sera. Il principe si trova adesso in totale isolamento negli appartamenti privati della Rocca di Monaco, con lo staff ridotto ai minimi termini, vuole ripetere assolutamente la amata moglie, Charlene, i figli di Jacques e Gabriella. Insomma, non c'è pace tra gli ulivi, come si suole dire, purtroppo Alberto di Monaco conferma ad essere positivo al coronavirus, ancora ha il virus, però sta decisamente meglio da come si legge sul web di recente. Vi ringrazio per l'ascolto, il video termina qua, iscrivetevi se vi va, commentate. Un saluto caro da Reandro, narratore italiano.